Per me la musica è un insieme di suoni, rumori. La musica è un insieme di suoni. Perché si ascoltano i suoni. Le note sono delle... Per me la musica è un insieme di note musicali. Non lo so. Cos'altro? Le figure sono... Sono delle... Sono dei suoni che così impari a suonare. La musica è una cosa meravigliosa. E devi conoscere. La musica è un'arte. Di suoni è un insieme di note che formano una canzone e vengono cantate dai cantanti. Il timbro è un insieme di voci che tu conosci. Sono le sette note. No, no. La fanno anche i cantanti. La musica la fanno i cantanti. A lui mi piace Emma Marrone. Sono Alessandra Amorosa. Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Laura Pausini. Emma Marrone, Marco Carta. No, dai! Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Alessandra Amorosa. E tanti altri. Allora, le sette note sono formate da suoni. Le note formano delle canzoni che cantano i cantanti. Sì, per me la musica è un'arte. Formata da tante note. Allora, la musica è un'arte.